E hola a todos! Vapers e bentornati nel mio angolo dello svapoc, come sempre c'è il vostro DJ Vise, che quest'oggi ha un video corto ma molto ciotto. Due eventi, una comunicazione di servizio e un'idea. Partiamo dagli eventi. Se sei di Udine, se sei dei dintorni di Udine, Friuli, Venezia e Giulia, o sei nelle vicinanze, o semplicemente dici sì, lo voglio fare perché sono in ferie, sabato 5 agosto, quindi questo sabato alle ore 19.30, ci troveremo tutti al negozio Svapalo di Udine, via Anton Lazzaro Moro 47, per un evento meraviglioso. Ci sarà la nuova presentazione del prototipo della COS, di Vaporesso, perché è in uscita a fine mese. Ok? Quindi potrete venire in anteprima a vederla, provarla e capire come funziona direttamente al negozio di Udine. Inoltre non c'è solo questo, perché ci sarà un aperitivo con tanto di piccoli snack e, tanto per non farci mancare nulla, c'è anche il mio liquido, il nuovo liquido che ho fatto in collaborazione con Valkyria, che si chiama Kedè, lo troverete sempre lì, sempre quel giorno, così potrete provarlo davanti a me, dirmi cosa ne pensate, acquistarlo se volete acquistarlo, perché lo potrete già fare, e per chi fa tot acquisti ci sarà un prodotto in omaggio che ho utilizzato io in un passato per da recensire. Il prodotto è praticamente nuovo, vi sarà regalato. Ok? Inoltre ci saranno tante piccole occasioni come tutti i miei prodotti recensiti in passato utilizzati in vendita, quindi chiunque voglia potrà acquistare i prodotti che ho utilizzato io da recensire a prezzo super scontato. E che altro dirvi? Sì che vi voglio vedere tutti, perché chiaramente c'è il mio liquido, c'è la presentazione della COS, prodotti in omaggio e a beveraggio, quindi voglio vedervi tutti. Ringrazio ancora Tiziano per avermi dato la possibilità e avermi dato questa bella idea e aver organizzato praticamente tutto lui. Io sto cercando solo di fare il PR, quindi venite tutti mi raccomando, perché vi aspetto. È una cosa molto importante perché gli eventi tengono vivo il nostro settore. Se siamo in un bel po' potremmo fare anche tante belle cosine su Instagram, eccetera, eccetera. Quindi vi aspetto sabato 5 agosto in via Anton Lazzaro Moro 47, Udine, al negozio Svapalo, ore 19.30. Mi raccomando, non mancate. Seconda cosa, la comunicazione di servizio che volevo darvi. Chiaramente il mio canale, adesso che è agosto, come sapete, come ogni anno, andrà in ferie insieme a me. Ricominceremo i video ad agosto, ma qui si lega la proposta che volevo farvi. La proposta qual è? È quella che, se volete, dato che YouTube, anzi, ho dovuto rimuovere molti video da YouTube per i fattori di policy cambiate, eccetera, eccetera, pensavo di portarvi 1-2 video a settimana di quelli vecchi, quindi ricaricarli sul canale, nel periodo in cui io sarò in ferie. Ad esempio, il video lo facciamo uscire, non lo so, il lunedì e il venerdì, così per la seconda, la terza e la quarta settimana di agosto. Dopodiché, i video e le live di Twitch ricominceranno con settembre, ok? Quindi noi a settembre ricominceremo a caricare video, ricominceremo a fare le live, ma sarete sempre aggiornati su Instagram. Un'altra cosa, un altro evento, 25 e 26 di novembre. Che cosa succede? Succede che ritorna il Vape Expo di Padova. Di conseguenza, il sito è già attivo, potete già fare le registrazioni per i biglietti. Vi ricordo inoltre che il sito non serve solo per fare i biglietti, ma avrete anche tutta la lista degli alberghi che ci sono nelle vicinanze della fiera. Quindi avrete un sito che vi serve a registrarvi e anche a prenotare l'albergo. Molto utile e anche comodo. Quando è? Il 25 e il 26 di agosto, dove a Padova, come dice bene il nome Vape Expo di Padova, è l'evento che hanno fatto l'anno scorso ed è un evento bellissimo. Perché l'anno scorso è stato organizzato per la prima volta ed è stata una fiera compatta, ma molto divertente. Io mi sono divertito tantissimo, abbiamo provato anche cose nuove. Però fidatevi che, vista l'andazzo dell'anno scorso, so che tante persone, tanti stand, ci saranno e saranno belli carichi, con tante novità. E in più ci sarà probabilmente anche il che è. Quindi, anche lì, venite. Quindi, queste erano le novità e anche le informazioni che vi ho dato. Spero, ragazzi, che verrete sia questo sabato che poi anche a Padova 25 e 26 di novembre. Che altro dirvi? Che dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude va a dirvi buone ferie. Mandi Fantas! E ora sono Svapers e bentornati nel mio angolo dello svapo, come sempre c'è il vostro DGV. Ok capo, è il mio angolo dello svapo. Liquidi, recensioni, in questa roba sono il ciapo. Sto in fissa con il mandi, più di sapo per la lì. Sbuffo più di un drago, in quanta tecnica Bruce Lee. D-K a 700, sul tubo ho fatto centro. E questa non è sparta, ma i VAT sono 300. In live anche su Twitch, regalami una sub. Facciamo quattro chiacchiere, si è il doppio dei puff. La mia ex, era una troia, tossica bionda, adesso svapo vinci royals. Nubi fino a notte fonda, collezionava i pod. Adesso switcho pod, mix aromi dai sapori intensi, alcuni un po' più densi. E' il flow. E' così big che ha con me, mi dice man, io col moni d'acciaio superman. Con la barba multicolor, i drip tip in oro. Ci rubano i contenuti e li fanno sembrare loro.